L'Olimpiade e tutta la staffetta, non tutta la staffetta, tutta l'atletica, i corsi hanno avuto un boom di iscrizioni e questo sicuramente mi fa piacere perché sapere di aver aiutato il mio sport è fantastico. Grazie mille a tutti, ciao! Sì, è stato bellissimo, bellissimo, emozionante dire poco perché ricevere questi complimenti, questi premi, queste congratulazioni del Presidente in persona è qualcosa di emozionante. In più gli abbiamo consegnato anche il testimone che abbiamo portato al traguardo a Tokyo e quello è stato ancora più bello perché è stato un regalo da parte nostra davvero fatto col cuore e devo dire, detto dal Presidente, fa naturalmente un piacere immenso, molto apprezzato.